wow ragazzi ci troviamo di nuovo dentro painkiller e speriamo di riuscire a fare un video decente siamo in una boss fight ma non ci sto capendo veramente niente non so cosa mi colpisce cosa mi attacca la prima volta che mi trovo a questo posto rimango fermo che cos'è dov'è vedo lì una cosa una struttura da fiscale a fare le mie ma che giuda beccato perfetto tutto ciò mi è nuovo raccogliamo tutte le fischi che abbiamo oh che cazzo enorme sto posto ma perdonate scusate in verità è una schiappa però beh vediamo di far funzionare bene questo cazzo di armi dove sei ecco di qua beccato mangia le seghe circolari fanno bene un po' di piombe un po' di piombe meno questa arma che spara stelle ninja cioè è una cosa assurda fenomenale però non si vedono non so per quale motivo non mi carica va bene va bene mi sembra una torcia di minecraft cos'era che cazzo è fuoco ma non mi dire ma non mi dire non c'è andato sono tutti incoglioniti i boss di sto gioco ah ecco bene che cosa cazzo ti piace eh ti stai divertendo eh complimenti salute mi ti colpe anche di questo oh Gatling 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 all guns blazing vabbè che figata dovrebbe essere morto sto stronzo beh vaffanculo smettila oh signore che figata saltella saltella ah cazzo siamo a pochissimo perfetto recuperiamo vita fantastico e crepa dannato vaffanculo vai ma farò il culo no nooo di nuovo nooo di nuovo nooo quale cazzo di piani ha sto posto oh e basta vuoi morire una volta per tutte eh che minchia oh ma vaffanculo vai si scanta pure i colpi non c'ho capito Pardon mmm 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 cacci tua sei una ciofega sei una ciofega non ci ammazzerai mai oh finalmente dovrebbe essere morto dovrebbe essere morto oh scariche elettriche si nooo nooo no 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 vabbè no ma no no ecco le stelle di ninja che vincevo più no vabbè ma non è normale vabbè vaffanculo ma non mi ricordo neanche più le parole della canzone non si capisce se questo monstro è un drago un demone un ratian ma io che canto il gelato non è che è molto divertente ma secondo me si ricarica ancora come oh vedi vaffanculo a tua madre ma tu vedi un po vedi ma vaffan bagno vai ma tu vedi un po vabbè ma che storia che lo stai raccontare mi sto praticamente sotto le palle dopo finirà anche la canzone questo stronzo qui sarà ancora in vita dai che sfiga vogliamo di stroncarlo una volta per tutte figlio di buona mi mandano i messaggi su facebook mentre registro grazie thank you kumbaa thank you ce l'abbiamo fatta non ha più statue a tu madre vaffanculo vai cacato la minca per il cacato figlio buono mamma te mi permettono pure il lusso di gesticolare in poche parole questo è il capo del topino che ha ordinato di rubarci il portafogli si alla fine è un lungo giro beh ma quando mai non si prendono stassi in testa forza dai fai fuori demoni soul catcher la ticca la gnocca tante anime tutte insieme dammela complimenti aia 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 non farmelo fare un po' di tensione tra i due una coppia che scoppia non era per caso la finanziata del topino beh ragazzi sinceramente mi sono divertito è finita anche la musica è finito anche il nostro video ci vediamo con il prossimo video forse con un prossimo boss vediamo se il prossimo boss è anche quello divertente faremo qualcos'altro beh ciao ciao è tutto da Antonio ciao ciao